Ciao! Allora oggi risponderemo alle vostre domande in anonimo. Iniziamo? Sì. Ok, bene. Allora, viaggio dei sogni. Ehm, ti vuoi rivisitare New York? Sì, anch'io. Canzone preferita? Vetri neri. Eh, non lo so, io aspetta, fammi pensare. Io sono andata a The Chiefs. Quella dei pinguini tazzici nucleari, qual è? Eh, che ne so ce ne sono da... Vabbè, una canzone dei pinguini tazzici nucleari, non... Rubami la notte. Ma da una. Vabbè, rubami la notte. Ok, vai. Ehm, ciao, mi chiamo Melissa, vorrei sapere qual è il vostro colore preferito. Allora, io ho un colore preferito, in realtà non ce l'ho, perché mi piacciono tutti i colori, quindi se devo proprio dare una preferenza, la do tipo per il rosso. Viola. Eh, vi aspettavate tutto questo successo dai sogni? No. Assolutamente no. Però comunque sono contenta. Cioè, non mi sarei mai aspettata di raggiungere queste tante persone, comunque, in poco tempo, diciamo. Sì, in realtà è passato un anno, quindi... Andiamo avanti. Sì, vai qui. Avete mai pensato di cambiare alimentazione? Introdurre legumi, verdure, pesci come l'orata o lo sgombro? Allora, io vivo di verdure, quindi più che introdurre verdure, non so che cosa... Ah, diciamo che quello che non mangia verdure è Salvatore. Io e Jenny mangiamo le verdure, quindi... Ma io proprio... Legumi, è vero, non le mangiamo tanto... No, ma a me non... diciamo che non piacciono. A Jenny proprio non piacciono per niente. Però, diciamo, io mangio tutte le tipologie di verdure, tutta la frutta, quindi... A me così così piacciono i legumi. E il pesce comunque è buono. Il pesce lo mangiamo. Non lo mangiamo spesso, però è buono. Cioè, lo mangiamo. Sì. Quanti anni hanno i vostri genitori? Allora, non so se le vogliono dire. Vabbè, dillo, non fa niente, dai. Aspetta, non mi ricordo, dico di papà. Quanti anni ha mamma? Quaranta? Mamma ha 48. 48. E papà? Papà ha 57. No, 56. 56, 56. Scusa, io quando l'età non ci sono proprio, scusate. Vabbè, andiamo avanti. Qual è il vostro libro preferito? Non leggiamo molto, però io avevo iniziato a leggere anche in altri domi miei levaggi, quindi... Spero non l'abbiamo finito, perché... non lo so, perché... dovremmo finirlo. Vabbè. Siete mai stati fuori dall'Italia? Io no. Sì, sono andata a Parigi. Esattamente a Disneyland. Vai. Nati, come ti vedi, tra dieci anni? Ma lo so, in realtà... Magari con una famiglia? Eh, vabbè, sì. Con dei figli? In seconda che non trovo più le domande. Le trovate? Sì. Filmo preferito? Il Titanic. Sì. È un po' scontato da dire, però è il Titanic. Eh, vabbè. Poi, ma non ti dà fastidio che tutti chiamano te, Jenny, Natalona e Gendarina? In realtà, ve l'ho già detto che a me dà fastidio, e anche tanto, perché comunque non capisco il senso di cambiare i nostri nomi. Cioè, non ci trovo niente. Che poi hanno avuto tanta fantasia. Natalona e Gendarina. Vabbè, Natalina, Natalona, Gendarina, Genoveffa. Cioè, invenzano proprio i nomi così. Eh, vabbè. Sei diverso. Comunque non mi fa piacere questa cosa, vai. Ti trovi più bella con o senza occhiali? Io mi vedo più bella con gli occhiali. Senza occhiali non mi vedo. Non lo spiego io. Non è che si vede più bella, però, essendo che ha portato gli occhiali da quando aveva un anno, praticamente è abituata a vedersi sempre con gli occhiali, vero? Una cosa, vi dico, ci dormo anche con gli occhiali. Oggi magari si vede diversa, diciamo, senza occhiali. Sì, è vero. E questo è il motivo. Bene. Come è nato il vostro percorso sui social? Lo rifareste o lascereste perdere, arrivate a questo punto? Io lo rifarei. Sì. No, lo rifarei anch'io. Perché comunque, nonostante tutte le critiche, io so che ci sono persone che sono davvero affezionate a noi perché ci fermano per strada, quindi le vediamo, le persone che ci tengono a noi. E come è nato questo percorso? Diciamo che è nato per caso. Praticamente io ho iniziato a fare i video dopo che mi sono diplomata. Da nulla. Non lo so perché siamo diventati così conosciuti. Non lo so. Descriviti con una parola. E li dico due. Solare e sorridente. E io come sono? Tu. Macabra. No, nel senso... Vabbè, sì, macabra. Sì, proprio. Vai. Pensi di voler fare l'influencer per sempre? Rispondi tu perché domani arrivo a te. Beh, diciamo che per adesso mi piace fare video, fare queste cose, quindi per adesso sì. Poi non lo so in futuro. Tu già? In che senso? Cioè, vabbè... Vorresti fare l'influencer? Eh, dipende. Da cosa? Non lo so, dipende. Vabbè, sì, rispondi a questo suo voto, eh. Il vero nome di Nadie. Natasso. Nadia. Solo che vi devo dire una cosa. Praticamente nessuno sa scrivere il mio nome perché lo scrivono tutti con S-C-I-A. Ma se... Cioè, non si scrive così perché se no si leggerà Tashia, se si scrivesse a casa... Non lo so perché lo sbaglio. No, adesso vi ho dato il nuovo soprannome, Natascia. Non lo dovevo dire, va. Oppure una tasca. No, dai, vai. Allora, visto che è un film o serie tv preferita, rispondiamo adesso la serie tv preferita. La mia, in generale, è male fuori di Stranger Kings. Ce ne sono tante, però dico queste. E io quelle dico, non lo so. E che ne so, tutti si... Quella dei vampiri, come si chiama? Quella di Demon e Salvatore. Vabbè, avete capito? Non mi viene il nome adesso. Dei vampiri d'Italia. Ah, sì. Non mi viene... Cioè, io non ho vista il suo nome, quindi... Vabbè, quella è comunque... Dai. E Jenny, cosa vuoi fare da grande? Allora, di sicuro adesso continuo dalla scuola perché mi rimangono ancora cinque anni. Vabbè, cosa volessi fare? Ehm, non lo so. Ehm, non lo so. Non lo so. Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Quali sono le tue insicurezze? Io, nessuna. Il mio carattere. In che senso? Perché sono molto fredda, chiusa. Non dimostro i miei sentimenti, quindi magari questa... È anche divina. Non lo so. Vabbè, sono i miei difetti. Vai, vai. E no, io tocco. Eh, d'accordo. Infatti. Mille volte ti ho fatto la stessa domanda, non ci sei mai degnata di rispondere. Quindi, che senso ha questo box di domande? Vabbè. Vediamo se rispondi adesso. Che lavoro vorresti fare, visto che TikTok non lo sarà a vita? Beh, innanzitutto, per adesso io lavoro con TikTok, con YouTube, quindi... Questo è il mio lavoro. Poi non lo so perché cosa farò in futuro. Io spero di continuare con il suo gioco, comunque. Salvatore, che scuola superiore farà? Allora, rispondiamo una volta per tutta questa domanda, visto che lo chiedete sempre. Salvatore farà legge dello scientifico e io farò legge delle scienze umane. Quindi, salvatemi questo pezzo di video perché non lo dico più. Infatti lo chiedono sempre, vabbè. Comunque, continuiamo. Vai. Che fine fa tutta la roba che congelate? Allora, vi spiego. Praticamente, per risparmiare, mia mamma compra magari cose in più... No, non è per risparmiare. Sì, per risparmiare, mia mamma compra le cose in più e le congela. Ad esempio, la carne, le verdure, il pesce. E poi niente, le mangiamo piano piano durante il mese. Quindi, la roba che vedete congelata, poi magari la mangiamo più a fare... E non dite che è una cosa che nessuno fa perché penso che lo fanno tutte le famiglie. Lo so, Giovanni. Scusate, vabbè. Una cosa che ti dà particolarmente fastidio. E a me, non lo so, magari per quanto riguarda se devo conoscere qualcuno, magari quando rilascio del visualizzato. Magari nel carattere di una persona, magari che all'inizio si dimostra una e poi un'altra. Vabbè, più o meno anche a me danno fastidio queste cose. Tipo, magari quando non sono sinceri, quando si fanno passare per una persona e poi sono falsi. Esattamente, tipo falsi. Sì, la falsità, ecco, in generale, vabbè. Vai. Continuiamo. Posso leggere un altro? Perché, no, perché Jenny ha deciso di fare il liceo delle scienze umane? Perché mi piacciono le materie che farò. E quindi... Vabbè, diciamo che Jenny si è basata anche un po' su quello che ho fatto io. Cioè, ho già più meno le materie che si fanno. Io so che è una scuola abbastanza difficile, però comunque l'ho scelta perché mi piace. Sì. Nati e Jenny riesci a vedere il vostro ragazzo ideale. Te lo descrivo con una sola parola. Parola. Sia per me sia per Nati. Malessere. Ah, pure per te. Non lo sapevo. Andiamo avanti. Ma vabbè, deve essere... Vabbè. Sì, Natà, malessere. Quale? Quale è l'alto di me? Vabbè, ma tanto sono tutti più alti di me perché io sono tipo un metro e cinquantaginco. Cinquantatette. Cinquantasette, vabbè. Ah, devo avere gli orecchini. Questi orecchini. Non so perché non mi piace gli orecchini. Vi gioco che hanno distrazione questi orecchini. Ma vabbè. Vabbè. Il malessere, ecco. Andiamo avanti. Malessere barmanazza. Che fine hanno fatto le melanzane fritte? Vabbè, è lo stesso discorso di prima praticamente. Esattamente. Sono congelate e dobbiamo preparare la parmigiana di melanzane. Quando magari non andiamo al mare la facciamo. Animale preferito. Il cane. Il cane. Se il tuo lavoro rifare l'influencer non pensi di dover studiare, cambiare e portare nuovi contenuti. Beh, allora, sì. Il mio lavoro, cioè, è cominciato già da adesso. Magari portare nuovi contenuti, sì, è vero. Perché comunque bisogna sempre portare nuove cose. Altrimenti magari queste persone non ci siano. Ad esempio noi facendo i video su YouTube stiamo portando nuovi contenuti. Stiamo cercando di fare cose diverse. Sì. Perché magari altrimenti le persone si stufano a vedere sempre le stesse cose. Però non penso di dover studiare per fare questo. No, ma forse ti potete studiare per l'università. Però non lo so, non l'ho capito. Ah, forse studiare. Vabbè, non lo so. Andiamo avanti. Come si chiama tua madre? Io dico, no? Dopo un anno che ci seguite. Si chiama Daniela. Vabbè, si chiama Daniele. Nostro padre si chiama Stefano. Poi, non hai voglia di viaggiare e conoscere il mondo? Certo, sono cose che mi piacerebbe fare comunque. Pensate, da piccola sono andata a Parigi. Comunque è bello viaggiare. Vorreste dei figli in futuro? Se sì, quanti come li chiamereste? Allora, sicuramente dei figli penso che tutti li vorranno. Vabbè, anche io sì. Quanti figli non c'è il dirti? Non dipende? Due, tre? No, due. Ma la devo parlare anche. I nomi non ne so. I nomi, bui, se tipo, è maschio, lo sto inventando. Se è femmina, tipo, la chiamerei come me. E invece se è maschio... No, ma chi dici? No, non lo so. I nomi non... Vabbè, dai, io so solo se tipo è maschio. Se è maschio, tipo Gabriele, Mattia, questi nomi qua. Vabbè. Se è femmina, non lo so. Andiamo avanti. Quando prenderà la patente? Non lo so. E quando sarò pronta? Ovvero, ma anche tu hai paura di più. Non è vero. Sì, è vero. Quando mi sarò pronta la prenderò. Va bene. Per adesso è così la situazione. Comunque, secondo me è meglio se facciamo un altro video. Perché ho visto che avete fatto tantissime domande. Infatti sono ancora piena. Sì, e quindi domani pubblicheremo la seconda parte con altre domande. Quindi ciao, a domani. A domani.